Al pagamento del cannone RAI attraverso la bolletta dell'elettricità, il Kodakons risponde con una raccolta firme. L'Associazione dei consumatori invita i cittadini a firmare questa petizione online per dare voce a chi non vuole che gli vengano messe le mani nella bolletta. Come ormai sapete, il governo Renzi, nel testo della nuova legge di stabilità, ha introdotto una modifica al regio decreto legge del 21 febbraio 1938. Il cannone RAI dall'anno prossimo verrà pagato con il bollettino dell'energia elettrica. La quota sarà di 100 euro da corrispondere in serate a cadenza bimestrale da 16,66 euro centesimi l'una. Ci sono altre due novità. Il provvedimento riguarderà i contratti domestici e saranno esclusi coloro che non posseggono né un televisore né un accesso internet in casa. Questi ultimi dovranno inviare un'autocertificazione alla società erogatrice del servizio elettrico per non pagare la tassa. Chi invece produce certificazioni false compie un reato addirittura punibile fino a due anni di carcere. 500 euro inoltre la sanzione per chi evade l'imposta. Il Codacons dice no a tutte queste forzature. Con la raccolta firma via web e con l'organizzazione di comitati in tutta Italia, l'Associazione dei consumatori comunicherà tutte le criticità della misura ai parlamentari che sono chiamati a votare entro la fine di quest'anno la legge di stabilità. L'obiettivo è evitare l'ingerenza del governo nelle bollette pagate dai consumatori.